E' proprio negli affanni del quotidiano di un'esistenza normale che si misura il senso più autentico del nostro cammino comune. Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano. Colui che cerca una strada la possibilità di aiutarlo a trovarla. E così noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che lo afferra. Quello che cerca una direzione è il dito che gliela indica. Nessuno basta a se stesso. Scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena, è il primo antidoto contro gli orrori della storia. Ogni vita, si sa, è piena di sventure ma anche di infinita bellezza. E il nostro non può che essere un gioco di squadra.